Un ospedale fantasma, così appare oggi il martiri di Villa Malta. La denuncia arriva dalle parlamentari deputate del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani e Silvana Nappi. Quest'ultima auspica la conversione del presidio ospedaliero sarnese in Covid Hospital. Sarebbe opportuno convertire parzialmente o interamente l'ospedale di Sarno in Covid Hospital per garantire ulteriori posti letto per pazienti positivi in una riorganizzazione dell'offerta ospedaliera, dice, come già raccomandato peraltro dalla nota dell'Unità di Crisi della Regione Campania, la numero 2798 del 26 ottobre scorso. La riconversione dell'ospedale di Sarno in Covid Hospital renderebbe il presidio ospedaliero di nocera inferiore specialistico e di eccellenza, nonché, DEA di primo livello, un ospedale Covid-free, così da garantire l'assistenza in sicurezza per altre patologie. Si alleggerirebbe inoltre il peso sul Covid Hospital di Scafati e sugli accessi al pronto soccorso di Mercato San Severino, una riorganizzazione che potrebbe aiutare a salvare vite umane, dichiarano le due parlamentari Nappi e Villani. L'ospedale realizzato dopo l'alluvione del 5 maggio 1998 è un grande scatolone vuoto oggi e mai utilizzato, spiega l'onorevole Villani. A quanto pare parte dell'esiguo personale medico dal mese di dicembre sarà assegnato a coprire turni al pronto soccorso con prevedibili ulteriori ripercussioni sul turnover dei ricoveri. L'ortopedia e la chirurgia sono state accorpate in un unico reparto con pochissimi interventi solo in regime di urgenza. Di conseguenza le sale operatorie sono sottoutilizzate e per lo stesso motivo risultano altrettanto sottoutilizzati gli anestesisti. Il reparto di pediatria negli ultimi mesi si è pressoché svuotato di pazienti. Il reparto di ginecologia ed ostetricia funziona a regime molto ridotto con un numero di nasciti ormai esiguo. È una situazione che non riesco proprio ad accettare, dice la Villani. Abbiamo uno degli ospedali più moderni e funzionali inaugurato con grandi sacrifici solo pochi anni fa, fiori all'occhiello del nostro territorio. Ma per l'incapacità o addirittura l'incompetenza dei suoi dirigenti sta rischiando la paralisi. Se un ospedale non riesce a curare i malati ed evitare perdita di vite umane, a cosa serve, si chiede. Non lo consentiremo mai. Le criticità dei reparti possono essere almeno in gran parte imputate alle inefficienze del pronto soccorso. In questi anni si è registrato infatti un depavoramento del personale medico che si allontana da questa realtà ospedaliera nonostante numerosi medici provenienti dal 118 sono stati riassegnati proprio a quel pronto soccorso. Ma molti hanno rinunciato all'incarico. Attualmente il pronto soccorso del martire di Villa Malta attinge al personale medico e chirurgico dei reparti impedendo di svolgere ovviamente le attività assistenziali a pieno regime. È per questo che l'onorevole Virginia Villani si rivolge ancora ai vertici dell'Asda Salerno in particolare del presidio ospedaliero di Sarno sollecitando un riscontro urgente alla sua richiesta dell'11 novembre scorso con la quale chiedeva la riconversione parziale o totale in covid ospital o almeno il ripristino di un reparto covid per pazienti sospetti in modo da evitare la contaminazione del pronto soccorso che molto spesso comporta la chiusura dello stesso. Questo reparto già attivato durante la prima fase della pandemia grazie ad ingenti lavori di ristrutturazione permetteva la corretta gestione dei pazienti covid presentava percorsi separati accesso unico ascensore dedicato e personale addetto a tale reparto fino a quattro mesi fa tale unità era idonea e funzionante oggi il nulla. In questa grave crisi sanitaria con il sistema ospedaliero dell'agronocerino sarnese in grande difficoltà non è il momento del campanilismo né di bieghi ambizioni personali ma quello della collaborazione e dell'attivazione sinergica nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini Negli ultimi giorni ho avuto modo di incontrare i vertici dell'Asda Salerno in particolare il direttore sanitario del presidio di Sarno per ribadire che considero fondamentale il ripristino del reparto covid sulla stessa lunghezza d'onda l'onorevole Nappi da medico io stessa ho riscontrato dice attraverso numerose testimonianze dei miei pazienti la difficoltà avuta in diverse occasioni dell'accesso al pronto soccorso di Sarno per interventi continui di sanificazione o per blocchi dovuti a casi di accertamento di positività al covid la soluzione di riconversione del presidio in covid hospital o la realizzazione di un reparto covid dedicato da noi suggerita potrebbe scongiurare ciò che invece si sta verificando in queste settimane ovvero la promiscuità dei pazienti al pronto soccorso nei reparti dei percorsi e il contagio degli operatori e degli utenti stessi ha dichiarato la parlamentare di San Gennaro Vesuviano inoltre sarebbe opportuno verificare quante ore a settimana l'ospedale di Sarno sia effettivamente dotato di una guida dirigenziale ora più che mai necessaria infatti il direttore sanitario dell'ospedale sarnese impegnato anche a Sapri non riesce a garantire una presenza quotidiana e costante nel presidio spiega la deputata del Movimento 5 Stelle allo stato attuale l'ospedale di Sarno svuotato dai pazienti necessita di una completa riorganizzazione che rende efficiente una delle strutture più moderne della regione non possiamo fare passi falsi o rischiamo di mettere in pericolo le vite degli abitanti del nostro territorio grazie a tutti